Che cos'è Cema Ambiente? Cema Ambiente è una società per azioni che gestisce i servizi di igiene urbana di 49 comuni per un totale di circa 450.000 abitanti, a cavallo tra la provincia di Milano e la provincia di Monza e Brianza. Gestire i servizi di igiene urbana per noi è la mission principale. Abbiamo dei dati abbastanza rilevanti in campo nazionale, infatti abbiamo già raggiunto mediamente raccolta differenziata intorno al 70%, ma una delle grosse unità è che cerchiamo di gestire tutti i nostri rifiuti all'interno del nostro territorio, cioè nascono e muoiono all'interno del nostro territorio. Abbiamo raggiunto su questo argomento già il 59% dei rifiuti trattati all'interno del nostro territorio. E pensate un po', con la nostra raccolta differenziata abbiamo risparmiato 158.000 tonnellate di CO2 immesse nell'ambiente. Una novità per la gestione dei servizi di igiene urbana è che abbiamo, tra virgolette, inventato, siamo inventati questo software per la gestione dei servizi di igiene urbana e abbiamo collegato dei sistemi satellitari, soprattutto le macchine utilizzate per il servizio di spazioamento stradale, per certificare il servizio. Pensate, ogni 100 euro che si pagano per tutti i servizi di igiene urbana, 15 euro sono solo dedicati a questo importante servizio, che è un servizio molto opinabile, quindi se è passato o non si è passato, macchine di vetri di sosta non hanno potuto fare bene il servizio. Ebbene, oltre ad avere una certificazione del servizio puntuale, cioè ogni rilevazione, ogni 7 secondi, se la macchina è passata e si sta lavorando con la macchina, quest'anno la grossa novità è che abbiamo montato a bordo macchina una telecamera, una telecamera per far vedere ai nostri tenti che passiamo. Cioè l'obiettivo è pagare sì, ma anche dare il servizio. Chiaramente questo è un test, ma già operativo, in questo momento stiamo disegnando una strada, quindi la classica signora Maria che telefona la mattina e dice non siete passati la mia via, possiamo in questo momento certificare anche la signora Maria che siamo passati e sicuramente sarà contenta. Grazie.